Non siamo ancora maturi per giocare con stereotipi culturali e sociali, quindi anche come comunicatori, come giornalisti, come marketer, come aziende, piuttosto perdiamo un'occasione di real time, ma non rischiamo, perché è molto difficile, anche nelle fanbase più fidelizzate, è estremamente difficile riuscire a trovare qualcuno, riuscire a trovare il plauso della community e rischiamo di amplificare e moltiplicare il nostro lavoro.